Consigliere Padrin, a 50 anni lei crede ancora nei sogni, lo dichiara apertamente, anzi rivendica questa sua specificità. Certo perché è questo che fa la differenza, ci sono delle persone che sono vecchie a 20 anni, io ho incontrato persone di 85 come il fisico nucleare Ricci che era giovanissimo, quindi i sogni sono l'elemento che definisce quanto noi crediamo nel futuro o quanto noi siamo già vecchi. Ecco, capacità di sognare ma anche concretezza e pragmatismo, doti che non le mancano. Io nella vita faccio l'imprenditore per cui devo confrontarmi ogni giorno con i bilanci perché altrimenti porterei me stesso e quelli che lavorano con me alla rovina. Già a 20 anni, agli esordi in politica, lei era una voce fuori dal coro. A suo avviso, di cosa ha bisogno oggi la politica per tornare ad appassionare la gente? Ha bisogno di abbandonare gli schemi per cui ciò che dice un avversario è sbagliato e ciò che dice un amico dello stesso partito è giusto. Finché non ci sarà un'evoluzione in questo senso noi avremo tifo calcistico e non politica. Ecco, in particolare, che cosa deve assolutamente tralasciare la politica e i politici? Ma oggi l'elemento per misurare la capacità deve essere la risoluzione dei problemi perché altrimenti non è difficile dire che gli uni sono buoni e gli altri sono cattivi. 50 anni e non sentirli. Che cosa ci riserva ai padrini dei prossimi anni? Beh, intanto una cura dimagrante perché qua non li sento ma dei chili in più li ho buttati su. Ma a parte questo che è una cosa più fisica che intellettuale o politica, credo che il futuro ci possa riservare ancora delle emozioni. Perché se noi siamo capaci di avere delle emozioni mentre facciamo politica, vuol dire che per i cittadini c'è ancora speranza. Capacità di sognare ma anche di immaginare e di progettare. Cuore e testa per il Veneto, motivo conduttore della sua comunicazione politica. Il Veneto come sarà dopo le elezioni regionali? Ma l'importante è come sarà la vita dei Veneti. Perché se noi vogliamo far crescere questa regione, dobbiamo partire dal presupposto di non occuparci di idea gestione ordinaria, ma di saper trovare per il Veneto una via che sviluppi quell'occupazione che oggi è messa in discussione dalla crisi. Grazie.